Domenica all'uscita arriva la Fiorentina e il Crotone prova a non arrendersi e a guadagnare punti anche in una sfida, teoricamente off-limits. Arrivano i viola dell'amato ex Federico Bernardeschi, come dice il difensore Mesbai, rosso-blu, nonostante una classifica impietosa ed emblematica. Vogliono continuare a sperare un'improbabile ma non impossibile salvezza, considerando il passo non certo celere dell'Empoli, quart'ultimo. Domenica è una parte molto importante, è un'occasione per agganciare l'Empoli, perché l'Empoli gioca contro il Napoli, che sarà una parte difficile per loro, però diciamo che domenica è una parte molto molto importante perché arriviamo fino alla fine e che adesso diventano i punti per salvarsi, sono molto molto importanti. All'andata abbiamo fatto un bel risultato lì, un bel pareggio, però adesso diciamo che adesso li affrontiamo, adesso stiamo analizzando la Fiorentina che è un'ottima squadra che gioca bene, c'è uno giocatore anche davanti importante, quindi sarà una parte tosta, però sappiamo che qua le squadre che vengono qua a Crotone fanno sempre fatica, fanno sempre fatica, però adesso pensiamo a noi e cerchiamo di fare una buona prestazione e dopo il risultato, se facciamo una buona prestazione su 90 minuti il risultato viene. Però non pensiamo a questo, pensiamo a noi a fare i punti, però abbiamo una chance incredibile, a questa diciamo mancano dieci partite, al solito le squadre che si salvano sono già quasi a 28-29, quindi è una chance incredibile e la dobbiamo sfruttare su queste due partite, Fiorentina e Chievo, che abbiamo la possibilità di fare i punti, però come ho detto prima, senza pallare, pedalare, e cercare di fare il massimo per almeno arrivare a meno 5-4 delle Emponi fino alla fine.